Scoprire in provincia di Teramo i borghi più belli d'Italia, correndo delle vere e proprie tappe agonistiche in bicicletta. È il primo giro dei borghi teramani che toccherà Campli, Salinello e Santonofrio, una manifestazione sportiva e culturale organizzata dall'Associazione Luca Allarò e dall'Axi Teramo, che si svolgerà il 2, 3, 4 giugno prossimi. Stando qui nella provincia di Teramo, dove ci sono parecchi borghi, abbiamo pensato di fare questa manifestazione, che quest'anno comprenderà Campli e un altro anno cercheremo di allargarla a Cipitella, Corropoli, Colonnella. Tutto questo dipende dalla volontà dei sindaci di prendersi questa manifestazione unica per adesso nella provincia di Teramo. Come si svolge esattamente? Abbiamo deciso di fare il primo giorno a Santonofrio di Campli, il secondo giorno a Salinello e la chiusura a Campli con festeggiamenti in piazza, con porchetta e birra. Quindi c'è anche un premio però per i vincitori? Come no? Allora, per i vincitori abbiamo pensato di fare una maglia che ogni giorno viene assegnata al vincitore di tappa. Poi una maglia finale, siccome è una gara a punteggio, chi prende più punti diventa il vincitore assoluto di tutta la manifestazione. Il primo giro dei borghi della provincia di Teramo è una gara ciclistica a tappe di tre giorni. Durante le soste si scopriranno luoghi incantevoli e suggestivi, un vero marketing territoriale che si ripeterà il prossimo anno e che toccherà altri comuni teramani. L'idea è nata proprio dalla promozione territoriale, non solo della città di Campli, ma anche del nostro territorio provinciale, tanto è vero che si chiama primo giro dei borghi e si spera sia il primo di una lunga serie da ripetersi nel corso del tempo e proprio nel corso del tempo vorremmo allargare questa iniziativa anche agli altri borghi della nostra provincia. È un modo diverso di promuovere i nostri territori attraverso lo sport, attraverso la condivisione di valori che sono anche al di fuori dei valori culturali, ma sono comunque valori importanti, che sono valori che uniscono tante persone che vengono da diverse parti d'Italia.